Forse l'ultimo evento come assessore dell'agricoltura, un bilancio di questi cinque anni? Sì, una grande emozione oggi, l'ultimo, sicuramente l'ultimo evento nel quale intervengo come assessore. Il bilancio è sicuramente positivo, sia per i numeri, insomma, siamo diventati la regione più biologica d'Italia e siamo cresciuti del 36% proprio in merito al biologico. E poi la soddisfazione di aver, dicevo prima, navigato con una barca fantastica che è quella del servizio agricoltura che è fatto di funzionari, di grandissime dirigenti, di grandissima qualità, dediti al lavoro e appassionati della materia e non è facile trovarli. E poi ha anche un rapporto ottimo con il territorio, quindi con le associazioni di categoria che sono sempre state presenti in ogni decisione, anche quelle più difficili, parlo del terremoto e del Covid. E quindi un bilancio assolutamente positivo e mi auguro che chi mi sostituirà, faccio innanzitutto tanti auguri di buon lavoro e che continui in questa direzione di implementazione della qualità. Prodotti di qualità, le marche ne hanno veramente tantissimi e soprattutto in questi anni si è lavorato per promuovere e per cercare di portare all'attenzione di tutti la qualità agroalimentare. Sì, le marche hanno fatto un balzo anche di conoscenza, nel senso che sono state conosciute in tutto il mondo proprio per la qualità e per il grandissimo livello di promozione che è stato fatto. Noi abbiamo implementato anche le denominazioni di origine con l'IGP dell'Olio delle Marche. Erano anni che si cercava di ottenere questa certificazione in ambito comunitario, ci siamo riusciti. E noi possiamo puntare e continuare a puntare solo e soltanto sui prodotti di qualità. e mi pare che se i numeri sono quelli che vengono dichiarati da Ismea io credo che noi siamo nella giusta direzione.